Vincere la Rugby World Cup, la coppa del mondo di rugby, non è una cosa per tutti. Nove edizioni, dal 1987 ad oggi, e solo quattro vincitori, quattro nazioni, che hanno sollevato la William Webellis Cup, il trofeo che porta il nome del fondatore del gioco. Tre volte gli All Blacks nesilandesi, tre volte gli Springboks del Sudafrica, due volte i Wallabies, una volta l'Inghilterra, l'unica europea a spezzare l'egemonia dell'emisfero sud. Anche solo arrivare ai quarti di finale, entrare tra le prime otto, è un obiettivo raggiunto in queste nove edizioni di Coppa del Mondo da 13 squadre nazionali. A raggiungere questo obiettivo l'Italia ci è andata vicina, in alcune occasioni vicinissime, non ce l'ha mai fatta e non ha mai smesso di provarci. Lo farà anche dal prossimo settembre in Francia, dove la Coppa del Mondo torna per la decima edizione dopo quella del 2007, un'edizione fantastica e indimenticabile. Questo è Pronti all'impossibile, il podcast della Federazione Italiana Rugby dedicato alle partite, alle vicende, ai personaggi che hanno fatto la storia dell'Italia al Mondiale. Venite con noi in questa prima puntata che inaugura il nostro viaggio attraverso le nazionali azzurre in 35 anni di Mondiale. Il 1987 è la prima edizione della Coppa del Mondo, si vola in una delle patrie del rugby, la Nuova Zelanda, a Otearò, alla terra della lunga nuvola bianca. Con noi a raccontarci ci sono Marzio Innocenti che sveste i panni di Presidente, gli abbiamo tolto la cravatta per questa prima puntata, e Stefano Barba. All'epoca, intanto benvenuti, inaugurate il nostro studio, inauguriamo il podcast Pronti all'impossibile. Ecco, cos'era, vado subito al dunque Marzio, cos'era per dei ragazzi che giocavano tutto sommato a rugby per diletto, per passione nel nostro paese, volare dall'altra parte del mondo e vivere quella che credo ai vostri occhi fosse un'avventura che forse quando avevate preso la palla ovale in mano tanti anni prima non pensavate di vivere. I mondiali ce l'avevano detto un anno prima forse, all'incirca. Un anno prima ci hanno detto, guarda che il prossimo anno è andato a fare i mondiali in Nuova Zelanda, ha detto, bello, beh sì, ma sarà una volta, poi dopo non li faranno più. Per cui, insomma, un po' l'aria era quella, per cui era bello andare in Nuova Zelanda, anche perché io avevo giocato soltanto una volta contro il New Zealand University, gli All Blacks l'avevo sempre visti, anche tu credo, non so. Sì, sì, pure io contro la Nuova Zelanda Universitaria e basta, non sapevo niente. Per cui per noi gli All Blacks erano ovviamente il massimo e la Nuova Zelanda ancora di più. e per cui siamo andati con quello spirito lì, un po' noi, ma un po' anche tutti gli altri. Oggettivamente è stato un grande happening, una grande festa. Anche un po' improvvisata. Molto improvvisata, molto, molto improvvisata, anche perché poi sicuramente tu poi alla fine vorrai parlare del quarto di finale che ci siamo andati. Ma anche su quello c'era una grande improvvisazione. Poi ne parliamo, ma insomma c'erano stati momenti esilaranti se non ci fosse stata in valo la qualificazione. Sono anche quelli che ci interessano, Marzio. Sì, esatto. Quindi, no. Però sì, era molto improvvisata. Sì, sì. Confermo che eravamo inconsapevoli completamente di quello che stavamo facendo. La federazione si è mossa veramente nell'ultimo anno per mandarci con dei raduni al Nevegal, ti ricordi? Partivamo per il Nevegal, ma tipo una settimana prima si va al Nevegal in ritiro in montagna. Fa un po' sorridere, no? Oggi ha un mese, un mese e mezzo da Francia 2023, che sarà una grandissima festa, ma poi Marzio nel suo ruolo più istituzionale, lo sa bene, oggi la Rugby World Cup è anche il principale strumento di business del rugby internazionale. All'epoca, l'avete detto, era quasi una festa tra giocatori che erano totalmente o quasi amatoriali. Ma no, direi totalmente, sì. Penso tutti anche... Gli Olympics hanno cominciato a fare un allenamento professionale per quella Coppa del Mondo perché era a casa loro e i professionali fino a un certo punto, nel senso che si allenavano un po' più a lungo, facevano più team squad, che a quei tempi erano quasi... un po' di tempo prima erano proibiti, per cui era così, come dice Stefano, era una festa fra giocatori semiprofessionisti. Sì, no, poi adesso... Ti puoi, Stefano, avvicinare un po' di più, per favore? Non sono abituato alle schermi tv o al podcast. E comunque... No, anche comunque per quanto riguarda l'organizzazione, Marzo, se ti ricordi, pure là, stadi semideserti, gente che ancora non sapeva bene. Ma voi che state facendo qua in Nuova Zelanda? Ma ci sono i mondiali di rugby? Ah, sì, avevo sentito che quindi... Pure, insomma, nonostante la Nuova Zelanda sia un paese regbisticamente al vertice, ovviamente, però anche là c'era stata poca diffusione del messaggio, insomma... Quindi, qual è stato un po' il vostro primo contatto con questo mondo dall'altra parte del mondo? No, voi siete arrivati, penso, a Oakland? Beh, sì, noi siamo arrivati a Oakland nove giorni prima, mi sembra, della partita inaugurale. E oggettivamente, sì, certo, dovevamo giocare contro i doblex, per cui era abbastanza pesante. Poi mi ricordo che due giorni prima della partita c'è stata la scena fra tutte le squadre, ti ricordi? Ah, sì, bellissima. Bellissima, bellissima. Tutte le squadre, tutte a Oakland e a cena, insieme, e mi ricordo che c'erano gli All Blacks, insomma, li abbiamo guardati un po', dire, beh, questi sono gli All Blacks. Io mi sono reso conto che quello che stava succedendo quando siamo andati alla partita, perché ci hanno lasciato con il pullman lontano, non lontanissimo, ma lontano, ne abbiamo fatto a piedi il tragitto per arrivare dentro gli spogliatoi all'Allis Park e c'erano due ali di folla, di festante, che ci salutavano. Uno mi ha chiesto, uno mi ha guardato, ci ha guardato, mi ha guardato e mi ha detto oggi giocate contro le All Blacks. Ho fatto una faccia, come dire, oggi giornataccia. Tra l'altro credo che questa sia la foto prima dell'ingresso in campo a Eden Park contro la Nuova Zelanda. No, no, questa qui credo che sia l'entrata in campo con le figi al Carisbu Park di Danedin. Danedin poi arriviamo. Sì, sì. È quella lì, è quella lì perché ricordo le pareti bianche con cui siamo andati. Sì, sì, no, quella è un'altra. Ecco, prima partita, tra l'altro, voi avete un record che nessuno batterà mai, no? Avete giocato la prima partita della prima Coppa del Mondo, perché All Blacks Italia è il match che segna il primo incontro alla William e Belli Scout. Sì, sì, io purtroppo non la giocai perché ero infortunato a una spalla e anzi, miracolosamente, il dottor Rota riuscì a portarmi al Mondiale mezzo incerottato, però con la fiducia piena di Marco Bollesan, insomma, sapeva che avrei potuto giocare le seguenti partite, quindi sono partito e ce l'ho fatta nonostante tutto a fare le due partite, però devo dire sì che giocare contro gli All Blacks, suppongo Marzio sia stata... Io posso dire un ricordo prima mio... Infatti, da fuori e da dentro... Allora, da fuori, vabbè, la partita è andata come è andata, insomma, male dal punto di vista del punteggio, bene dal punto di vista dell'impegno, però ecco quello che mi ricordo, noi che stavamo in tribuna, siamo scesi nei nuovi spogliatoi a fine partita, e noi, noi italiani, eravamo tutti uno sdraiavo sul lettino, uno appoggiato così, uno che si metteva la pentesta, eravamo stremati, insomma... Io credo di averla vista, era un bambino molto piccolo, quindi non la ricordo, ma il primo tempo, Marzio, non va neanche così male, a parte che... Ma guarda, nella vita ogni reggbista gioca delle partite particolari, quella fu veramente, per me e nel mio ricordo, tanto particolare, perché... Gli All Blacks all'inizio di tutte le tournee, lo dicono loro stessi, non sono mai proprio così in palla, per cui l'inizio della partita, mi ricordo che hanno fatto un paio di errori anche abbastanza grossolani, tra l'altro uno non pudito dall'arbitro, un in avanti in area di meta, e la partita è andata, ha cominciato ad andare in un certo modo, noi tutto sommato abbiamo tenuto più che dignitosamente fino a mezz'ora dalla fine, poi c'è stato un errore, un paio di errori, un po' banali così, e lì ci siamo smontati, decisamente smontati, e loro quando tu molli ti distruggono, per cui è stata una partita veramente tanto strana, però una partita particolare, perché poi dopo tutto quello che è successo dopo, è successo perché c'è stata quella partita. Andiamo a scoprirlo, cosa c'è stato dopo, no c'è un secondo appuntamento, a Chrysler, se ricordo bene, contro l'Argentina, e finisce 25-16 per i Pumas, poi c'è questa partita, tutto sommato per quella che era la formula dell'epoca decisiva per avanzare a Danidin contro le Figi, tra l'altro Danidin poi ricorre perché l'Italia tornerà a Danidin, e lo vedremo con Leonardo Ghiraldini nella puntata del 2011 l'Italia giocherà un'altra partita del Mondiale, ma ecco, Figi-Italia, quella partita la portiamo a casa. Già vuoi passare alle Figi, c'è l'Argentina allora raccontiamo l'Argentina è stata un'altra partita quella veramente incredibile, quella ha segnato il destino è stata quella, sì, perché insomma noi, io voglio dire sempre un'altra cosa, bisognava pensare che noi degli avversari non sapevamo quasi niente, non c'era la Figi, non c'era internet, le statistiche, gli highlights, avevamo forse rimediato delle cassette in cui vedevamo, quindi avversari sconosciuti, ecco, lo dico perché, perché nella mia personale è quello che sentivo io, l'Argentina era uno squadrone, questi Pumas, poi una volta però arrivati dopo dieci minuti dici, ma questi sono come noi, ma questo se io faccio la finta quello che facevo io che imboccavano tutti, imboccano pure questi, cioè allora, allora sono normale, e là abbiamo e cominciato a prendere confidenza, poi Marzi ha fatto una bellissima meta partendo dalla Misch, da un raggruppamento, e là ci abbiamo creduto sempre di più, anzi io ero convinto che durante la partita che ci avremmo fatto. La sensazione era quella, la sensazione era quella, abbiamo sbagliato tanti calci, abbiamo avuto tre o quattro calci in mezzo ai pali, l'abbiamo provato e abbiamo sbagliato, ma era veramente in mezzo ai pali, sai quando capita la giornata difficile del calciatore ci sta, e poi c'è sfuggita di mano, c'è sfuggita di mano, ora non voglio ritornare sulla meta non fatta, perché non è neanche a Fabio, credo che no no, invece torniamo, Fabio si si è stancato di quella cosa là, ci sono in ogni in ogni coppa del mondo ci sono degli episodi, c'è sfuggita di mano, quella partita è francamente alla fine, come diceva lui, ci siamo guardati e abbiamo detto ma dai, i Pumas devono essere dei mostri, una testa, due gambe, due braccia, francamente oggi abbiamo giocato tanto meglio noi, abbiamo perso una partita fuori del mondo, ma nettamente abbiamo sempre avuto il pallino in mano del gioco, tranne questi episodi che poi loro hanno fatto una meta, un calcio, poi a un certo punto, vabbè, però insomma poi l'errore di Fabio, tu vuoi parlare dell'errore di Fabio? Sentiamo l'errore di Fabio, perché no no no, ma l'obiettivo è parlare di quello che magari non si sa, ho visto il pubblico, Fabio nel lungo i tempi ha cresciuto anche lui, non è che ci soffre più tante, ma ai primi tempi devo dire che Fabio Gaetaniello, Fabio Gaetaniello, ma guarda, negli spogliatoi lo stavo guardando a un certo punto che si stava affasciando le mani, ma sembrava una mummia, no? Ho detto, scusa, sì sì, ma veramente amore, ho detto, Fabio ma come fai a passare la palla? No no, nessun problema, faccio sempre così, non ho problemi, vabbè, in Livornese, ma tra voi, tra Livornese, ma a un certo punto c'è questo pallone che arriva a Ugo Porta, io ricordo che sono salito sparato su di lui e ci siamo toccati e lui ha perso il pallone, il pallone è caduto e Fabio ha dato un calcio a sto pallone e non c'era più nessuno, cioè proprio c'era lui, il deserto, sì che eravamo in pressione, proprio la classica pressione del quarti, del calcio, e lui corre verso la palla e io gli stavo anche dietro e gli ho detto buttala in aria di meta, nel senso, dacci un altro calcetto e vai sei solo, sei solo, e non so, lui ha cercato di raccogliere, l'ha fatto in avanti e io lo prendevo in giro per queste fasciature che diceva Marzio appunto, dico come fai a giocare rugby con due forchette al posto delle mani, ma non le usa quelle fasciature e infatti quando è caduto se si riesce a rimediare il video gli vado sopra e dico vedi che vuol dire con le forchette, vedi che succede e quindi insomma, poveretto, poi dopo non sempre la parola, parola di incoraggiamento per parola di incoraggiamento, ad allenare con l'Italia Marzio c'era, possiamo dirlo, una delle figure, la figura forse più storica del rugby italiano, Marco Bolesar, che era commissario tecnico e soprattutto insomma quando c'era da dire una buona parola non si tirava mai indietro, Marco era Marco, io credo proprio la classica persona che puoi amarla, non amarla, odiarla, quello che ti pare, però indifferente non ti lascia di sicuro e sicuramente inimitabile perché Marco era inimitabile e lì devo dire che ai mondiali ha dato il meglio di sé in tutti i sensi, guarda, in tutti i sensi è stato l'anima, l'allenatore, il trascinatore, quello che ti faceva ridere, divertire quando le cose non andavano benissimo. Infatti io sarei curioso di sapere dalla preparazione alla fine cioè come aveva gestito Marco e il gruppo. Aveva gestito la Marco devo dire. Sì, no, c'è da dire una cosa importante Andrea, mi fai venire in mente che il preparatore dell'Italia era Bollisan. Sempre perché insomma era veramente un altro ragno, un altro ragno. Allora, a un certo punto abbiamo fatto la, erano le prime volte che si facevano la preparazione pseudoscientifica per cui ci facevano lavorare abbastanza per quelle che eravamo stanchi. Allora, tutti mi dicono vai da Marco e dici che siamo stanchi. E io a un certo punto dico Marco guarda, siamo veramente un po' stanchi. Forse domani è meglio se ci dai un giorno di riposo. Bellini. Lui, beh, poi fa va bene ve lo do. Allora, però facciamo una passeggiata. E vabbè, facciamo una passeggiata. Chiaramente una trappola. Facciamo una passeggiata. Allora, usciamo. Ti ricordi come fai di mentire? Chi ci aveva il bastone, chi c'aveva la margherita in bocca, il cappellino, tutti. Perché ci avventuriamo in un bosco dietro l'albergo. Il primo segno che era una trappola è stato quando siamo usciti dall'albergo perché a sinistra si andava una strada pianeggiante. A destra si andava in discesa. E lui fa guardiamo gli dico dove si va? Andiamo di qua. No, no, andiamo di là. Va bene. E cominciamo a scendere, 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 scendere tanto e quando arriviamo al fondo che cosa dice lui? Siamo di corsa. Si ritorna su di corsa. Ho visto scene inenarrabili. Ti ricordi Franco Berni? Ah, Franco Berni. Franchiro Berni che si nascondeva dietro le betulle solo che era talmente spesso più della betulla. per cui tu non hai Marco ovviamente di a me. No, no, Franco Berni l'ho conosciuto perché quando Marco poi allenava a Valcus Genova tanti anni dopo se l'era ripreso. Dopo Italia All Blacks abbiamo fatto il primo allenamento e abbiamo fatto quanti? 20 volte il campo intero. A chi arriva primo? Non era tanto competitivo. Preparazione scientifica. In base ai cari. Dopo quell'allenamento morti veramente morti tutti però 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 devo dire che io devo dire che Marco a me personalmente ma penso a tutti mi ha formato molto proprio nel caro nello spirito del rugby poi Marco era un po' al rugby italiano. Sì esatto veramente questo tu lo sentivi e io l'ho sempre apprezzato a me veramente a parte perché mi faceva giocare quindi ancora di più però no devo dire a parte le battute che era veramente un personaggio unico che riuscì a trasmettere delle sensazioni pure prima della partita durante gli allenamenti che ti facevano cambiare atteggiamento ecco quello sicuramente. Dopo l'argentina torniamo insomma a quello che dicevamo prima c'è la partita tutto sommato decisiva contro le isole Fiji ma essendo il format credo ancora un po' tu lo sapevi che era decisiva come dire no noi speriamo con forze se vinciamo può darsi che questo sarebbe interessante da chiedere perché non lo so neanche io cioè non vi avevano un po' di confusione nel senso che non c'era un regolamento stabilito cioè l'organo di organizzativo non aveva stabilito chiaramente qual era la non era stata prevista la possibilità che tre squadre arrivassero a pari punteggio a pari punti per cui non si sapeva bene finita la partita devo dire che Maurizio Mondelli era convinto che fossimo passati noi perché avevamo battuto le Fiji per una serie di incassi perché avevano battuto l'argentina però poi alla fine è venuto fuori che invece avevano deciso che era la differenza meta per cui l'ultima meta del tallonatore figiano a poco dalla fine era stata decisiva o se vuoi era stata decisiva la meta del tutto inutile dell'argentina all'ultimo minuto quindi voi siete andati a dormire pensando di no non sapevamo francamente che cosa era successo sicuro non era nessuno siamo andati a dormire con l'idea che forse dovremmo fare un'altra partita con la Francia devo dire da fuori e col senno del poi più di 30 anni anzi 36 anni dopo fa impressione raccontare come ancora forse tutto così amatoriale così lontano tutto sommato dal rugby che conosciamo ha cambiato la storia del rugby italiano dopo perché noi non so se qualcuno nota che noi incontriamo sempre gli All Blacks cioè incontriamo sempre gli All Blacks perché non essendo passati ai quarti quella volta ancora scontiamo il fatto di non essere passati e ora credo su nove edizioni sei o sette volte abbiamo trovato gli All Blacks nella fase al girono sì beh anche stavolta però insomma francamente stavolta speriamo meglio rimanendo rimanendo ad Anidin che poi è la sede della partita con le Figi a un certo punto credo alla vigilia di questa partita Marco Bolesan fate il Captain's Run tu poi da capitano in quella nazionale vuoi parlarvi presumo per andare un attimo a rifinire il lavoro in vista della partita del giorno dopo e non lo trovi Marco non c'è in albergo sì no non c'era no avevamo fatto allenamento prima chiamiamolo quello che oggi è chiamato il Captain Run ma insomma l'ultimo allenamento di finitura ti ricordi in quel campo libero sotto rimontiamo in Pullman per andare io cerco Marco perché gli volevo appunto parlare di un paio di cose che ci eravamo detti durante l'allenamento in Pullman non c'era quando arrivo in albergo chiedo se c'era non l'ha visto nessuno vado a farmi la doccia così scendo di nuovo l'avete visto l'avete visto alla fine vado a bussare in camera sua tra l'altro la porta era anche aperta busso e entro sento che c'è sotto la doccia e mi dice Marco sei in doccia non dice nulla esce fuori la doccia il cappatore tutto così e dico tutto bene sì a posto aria un po' mistica sai come faceva lui quando mi guarda e mi fa ammarsi sono finito l'allenamento dovevo correre e sono andato su in cima in cima alla collina e io guardavo e c'è una piccola chiesa e sono entrato come sono entrato sul pavimento c'era un raggio di luce io lo guardavo sempre più mi ha detto era Dio e io sempre interrogativo e mi ha detto che domani vinceremo ora vabbè comunque faccio ridere però posso dirvi non faccio ridere è molto Marco era così era così ora è chiaro però era forse anche un modo per stimolarmi per la sua è un uomo è un uomo che ci manca sì no era sentite volevo ecco per un po' per chiudere perdiamo con Fiji ed è poi il momento di tornare a casa vinciamo però vinciamo sì scusate vinciamo 18-15 comunque arriva il momento di tornare a casa c'era allora la non voglio dire la consapevolezza ma l'idea che da lì per l'Italia ma per il rugby insomma cominciasse in qualche misura una nuova era un po' Marzio hai già risposto prima quando dicevi che sì andiamo però chissà magari non la faranno più però questa era prima tornati avete avuto l'impressione o forse una consapevolezza acquisita negli anni di aver vissuto così l'embrione di qualcosa che poi sarebbe diventato quello che è oggi cioè il terzo evento sportivo più importante ma non so non lo so io posso dire Marzio quello che provavo io me lo ricordo insomma questa così avanti forse non ci eravamo spinti nessuno di noi però ecco sicuramente grande soddisfazione per quello che avevamo fatto eravamo veramente contenti di quello che avevamo fatto perché comunque veramente ci eravamo confrontati con squadre che non pensavamo di dover mai confrontare l'Argentina adesso l'ifigi l'abbiamo passata velocemente ma è passata velocemente nel discorso ma una fisicità una velocità cose che noi non ci aspettavamo siamo riusciti a vincere quindi molto orgogliosi di quello che avevamo fatto e pronti a dico quando speriamo che ci sia però non amo ancora forse almeno da parte mia no a parte penso di nessuno nell'immediato però io poi dopo anche ho smesso dopo due anni dopo due anni ho smesso invece Stefano ha continuato ne hai fatto anche un altro e lui forse ha vissuto il momento di passaggio perché poi si è andato al Milan e il Milan è la squadra che ha cambiato un po' perché lì è diventata una squadra diciamo di professionisti dove il professionismo non c'era mai stato per cui anche la nazionale ha cominciato a crescere poi quando sono arrivati gli altri ovviamente i valori si sono pareggiati oggi noi un po' inseguiamo perché forse nel passaggio non siamo riusciti poi a consolidare un campionato domestico professionistico come sono riusciti a fare i francesi gli inglesi e ora arranchiamo inseguiamo un po' con le due franchigie però quando siamo tornati no nessuno pensava che il rugby avrebbe preso questa piega che ha preso adesso no però è vero che quella squadra lì è tornata con una consapevolezza diversa diciamo che è stato quasi un percorso di formazione quel campionato del mondo siamo arrivati in un modo siamo usciti in un altro e devo dirti che dopo aver perso i 70 punti contro la Nuova Zelanda che oggi sembra normale quando la Nuova Zelanda da 70 punti a squadre diciamo di secondo livello sembra una cosa normalissima allora anche a noi era sembrato un punteggio enorme sì per carità anche l'Italia a quei tempi perdeva ogni tanto un po' meno spesso degli anni successivi ma perdevamo ma perdevi sempre vicino all'avversario 70 punti non ci aveva mai dati nessuno e in quel momento è stato quasi un dramma preso malissimo dai nostri dirigenti da tutti quelli che erano là e essere tornati fuori da questa situazione vincendo diciamo lo scontro di qualità l'abbiamo vinto anche con l'Argentina ma poi abbiamo proprio vinto con le figi non è stato non è stato facilissimo proprio non è stato facilissimo se posso citare un piccolissimo episodio ancora che mi ha colpito mi ha fatto anche a loro credo abbia fatto piacere a tutti quanti quando i ragazzini di quella classe mi hanno mandato ognuno una lettera ognuno una lettera dopo aver visto la partita io me ne ricordo ora una per tutte una bambina che scriveva ho visto la vostra partita mi è dispiaciuto tanto vedervi perdere così tanto ma anch'io con la mia squadra di handball di palla a mano ho perso mi ricordo il punteggio molto ampio però poi dopo alla fine del campionato siamo anche riusciti a vincere le partite ho detto beh questo è l'essenza del rugby e dello sport cioè una bambina bello bello devo dirvi che è stato tutto molto bello sì sì eravamo molto molto contenti di quell'esperienza come squadra Stefano come gruppo c'è un momento un episodio a cui siete magari più legati che ad altri qualcosa che come dire quando io ti dico Coppa del Mondo dell'87 automaticamente è la prima la prima fotografia che io forse quello che ho citato prima i primi raduni al neve che al forse in cui formavamo la squadra in cui c'erano già delle selezioni perché comunque erano un gruppo un po' più ampio forse quello però un momento particolare non so Marzio a te se ti viene in mente ce ne sono tanti particolari però mi arriva di citarne uno di Stefano perché quando abbiamo giocato con le Figi lui è entrato in campo con una carica pazzesca però dopo qualche minuto non so se noi mischia almeno a lui sembrava che non stessimo giocando particolarmente bene è arrivato sempre la dicotomia percepito tra gli avanti e i trequadri diciamo che Stefano quando perdeva un po' la cosa era abbastanza fastidioso abbastanza fastidioso mi ricordo che ho alzato un po' la voce e invece lui invece di continuare così mi ha guardato ho giocato benissimo cioè ora non per merito mio ma voglio dire era in un momento di transagonistica che forse una volta calmata ha fatto una partita pazzesca e giocare centro contro i figiani quei figiani era una cosa difficilissima perché erano veramente dei figi alti grossi veloci ti ringrazio Marzio perché è vero comunque io ero molto fastidioso e ce l'avevo sempre con gli avanti che non tiravano fuori il pallone dovete tirar fuori la palla mi dovete passare la palla allora Marzio mi ha detto in termini un po' più coloriti pensa al tuo che a questo ci pensiamo e tu lascia perdere diciamo in maniera quello mi ha fatto un po' mi ha fatto un po' però gran partita poi bellissima partita bellissima bene bene allora la prima puntata di pronti all'impossibile finisce qui grazie a Marzio Innocenti grazie a Stefano Barba tra i pionieri grazie a voi azzurri alla Rugby World Cup del 1987 da un grande paese di rugby alla casa del rugby nel 1991 perché contrariamente a quello che Marzio e Stefano magari all'epoca possono pensare la Rugby World Cup come abbiamo visto va avanti va in Inghilterra e sarà un ulteriore passo verso quella che oggi appunto è la terza più grande manifestazione sportiva al mondo ne parleremo con due azzurri che all'epoca sono giovanissimi Paolo Vaccari e Carlo Chechinato ma questa è la prossima puntata di Pronti all'impossibile grazie 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 a te grazie a voi grazie a te grazie a te grazie a te